I gari quadisti Nicola Montalbini, una spettacolare gara 2, una partenza all'inseguimento di Andrea Cesari, una conclusione di gara 2 in testa stile Nicola Montalbini. Nicola, eri un po' depresto, fortuna avversa negli ultimi appuntamenti e adesso la conferma delle tue qualità e della tua velocità. Beh che dire, anche oggi purtroppo era iniziata male come poi era finita la Fano, oggi sapevo che avevo qualcosina in più rispetto agli altri, purtroppo la prima mangio non sono riuscito a esprimermi per vedere cose che sono successe, la seconda invece sono partito in testa bello carico e ho gestito fino alla fine. Sei stato un grande Nicola, hai picchiato i primi 5 giri in 1,50, veramente un martello e poi hai gestito il vantaggio accumulato, sei stato veramente grande. Bravissimo Andrea Cesari dietro che sta crescendo tanto e come sempre campione italiano Nicola Montalbini, un onore per l'Italia. Nicola ti lasciamo il podio, complimenti!